Calma, da respiro, Murillo, si è alcentrato Eder, Jean-Marie allora va a riprendere il pallone, registra tutto campo, Eder, c'è una tira per lui, è una finta, prova il destro a secco, non va, cercherà ancora di bala, vuole il numero su Murillo, cambia direzione, pronta a ripartire, poi la grascia a volata tesa per Alexandro, gran palla per lui, contro Cros, attenzione, che dietro da solo, che occasione, avrebbe potuto, forse anche controllare, ma soprattutto col suo uomo migliore che adesso è Dybala, attenzione, di riprendenza, deve gestire meglio sicuramente la taballa che mira, di Riccardi, sopra la chiave di Riccardi, braga, 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 e Dybala, tiene vivo il pallone, lo accarezza, lì che è secco, si accentra, all'indietro, Cianici, c'è solo a tiro, in giro, braga, di potessimo, Cianici, vivo scritto, la barba è quello, in giro, in giro, in giro, in giro,renali, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.